Si chiama Mawada Eradm, è una influencer la quale sarebbe stata arrestata perché avrebbe violato i valori e i principi della famiglia attraverso i suoi account nei social media. La storia di questa donna sta facendo il giro del mondo, il procuratore generale ha fatto sapere che Eradm sarebbe stata in carcere per ben quattro giorni con l'accusa di avere creato e gestito diversi siti internet e account in social media che avrebbero violato di fatto i valori e i principi della famiglia. La donna avrebbe provato a scappare, ha mandato d'arresto, spiccato nei suoi confronti ma era stata intracciata la polizia attraverso la sua automobile. Ha più di 3,1 milioni di follower nei social network, il primo video diffuso che è ancora parto e addadato al 2018, l'account di Instagram è seguito da 1,6 milioni di persone, l'account di YouTube ha più di 300.000 iscritti. Insomma, un vero e proprio gioco tra virgolette al massacro per una influencer famosa e piuttosto bella in vola. Grazie a tutti, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate e al saluto a tutti da Leandro, narratore italiano.